No alla fusione con Cutigliano e siamo pronti a fare ricorso al TAR per l'annullamento della decisione approvata a maggioranza nei giorni scorsi dal Consiglio regionale della Toscana. Lo ha detto il sindaco di Abetone, Giampiero Danti, al termine del Consiglio Comunale Straordinario che si è svolto ieri pomeriggio ad Abetone, consiglio che si è concluso con la votazione all'unanimità di un documento che ribadisce la volontà della popolazione di non volere l'unificazione di Abetone con Cutigliano. Con l'approvazione del documento, afferma il sindaco Danti, maggioranza e opposizione mi hanno dato mandato di comunicare la decisione in tutte le sedi opportune, quindi in primo luogo al Consiglio e alla Giunta regionali affinché sia rispettata la volontà della popolazione contro la fusione dei due comuni, come già era immerso dal referendum dell'anno scorso. Il mandato che mi viene assegnato è anche di agire in tutte le sedi opportune e non è escluso dunque il nostro ricorso al TAR contro la decisione del Consiglio regionale che ha votato a maggioranza la fusione del nostro comune con quello di Cutigliano. Diversi cittadini che erano presenti in massa al Consiglio Comunale si sono detti disponibili a frugarsi in tasca per sostenere l'eventuale ricorso, azione che anche le opposizioni consigliari sono propense a valutare.